buongiorno benvenuti dell'abbigamento mi dica pure il suo ordine buongiorno volevo ordinare un tubino nero semplice grazie sono 20.000 lire al prossimo sportello grazie grazie arrivederci vedi poi potreste abbinare questa con i jeans buongiorno ho visto il video volevo ritirare un tubino nero di video ah no ma era solo una gag comica per pubblicizzare il negozio ah ok ok scusi allora ciao luca ciao chi è luca luca ah ha detto luca no io mi chiamo andrea guarda c'è anche scritto andrea c'è anche scritto io mi chiamo andrea mi chiamo mi chiamo andrea